un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo al refettorio dei frati minori cappuccini dal luogo dove si sedeva padre pio diciamo per pranzare perché in tanti hanno scritto che padre pio non mangiava tantissimo e ce lo racconta anche lo stesso padre agostino da san marco illamis nel suo diario ecco un prezioso strumento cari amici questo che ci racconta in determinate giornate dell'anno quello che accadeva nella vita di padre pio padre agostino il 4 marzo del 1940 era il ministro provinciale di questa fraternità provinciale era ecco per spiegare chi è il ministro provinciale era il superiore di tutti i frati cappuccini che costituivano la fraternità anche degli altri conventi non solo di san giovanni rotondo ma anche di vico del gargano di sant'anna c'era il convento di cerignola c'era il convento di sant'elia pianisi venafro tanti conventi sparsi in tutta la provincia religiosa di cui il ministro provinciale era appunto padre agostino da san marco illamis ecco cosa ci racconta padre agostino che il 4 marzo del 1940 lui era di ritorno dall'eritrea lui infatti era ministro provinciale e si assentò dalla provincia per andare in eritrea per questa missione dei suoi confratelli già nel dicembre dell'anno precedente nel 39 mi sono regato subito a san giovanni rotondo lui era rientrato il 26 di febbraio in italia il padre ha gioito nel vedermi nel sentire le notizie della missione e dei missionari mi sono trattenuto per circa quattro giorni e tutte le sere ho potuto parlare con padre pio almeno per mezz'ora la prova per lui continua ma è più sopportabile grazie a dio infatti gli racconta che padre pio aveva un pensiero fisso che lo conturbava così scrive padre agostino il provinciale è andato a roma e non lo ritornerà più in provincia ecco come andranno le cose le cose ritorneranno sempre peggio di prima aveva visto venire a mancare un suo più che confratello un suo caro amico confessore direttore spirituale il suo caro padre agostino che lo chiamava sempre il suo piuccio grazie al signore scrive padre agostino poter subito riconoscere la tentazione ma furono momenti terribili e poi ci racconta la sua vita quotidiana confessioni dalla mattina alla sera coro preghiere raccoglimento e qui ci racconta padre pio mangia pochissimo a mezzogiorno non ce n'ha mai deve due bicchieri di vino eppure resiste sempre al lavoro e alle confessioni grazie a tutti